I solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza, sono iniziati con la Santa Messa presieduta da Monsignor Francesco Nolè. La celebrazione eucaristica è stata preceduta dall'omaggio floreale del prefetto e dall'accensione del cero votivo da parte del sindaco Franz Caruso. La pandemia, ancora non del tutto debellata, non ha consentito neanche quest'anno la processione che attraversava tutte le principali strade della città. La ritualità e espressione di una fede profonda è stata mantenuta. La statua della Madonna, con una breve processione lungo la navata della cattedrale, è stata portata in Piazza Duomo, dove l'arcivescovo Monsignor Nolè ha pronunciato l'atto di consacrazione della città che ha suggellato, ancora una volta, il legame d'amore profondo che esiste tra la Cosenza e la sua Santa Patrona. Sostienici, O Madre, nella sequela di Cristo, affinché, seguendo Lui, mia verità e vita, risprenda sulla nostra Chiesa e sulla nostra città, il volvo di Dio Padre, al quale per mezzo di Cristo, e la comunione dello Spirito Santo, sia gloria e gloria nei secoli dei secoli. Santa Maria del Pinedio, regata in noi.